Entriamo proprio perché Bossi oltre a dire che è un matto ha detto vuole trasformare Milano in una zingaropoli quindi adesso, anzi partiamo proprio da Milano, qual è il modello di città cui si ispira Giuliano Pisapia? Beh innanzitutto è una città che possa dare lavoro ai giovani perché io ho gelato molto nelle case popolari in questo periodo, nei quartieri periferici e ho scoperto che soprattutto nei quartieri periferici, nelle case popolari la prima cosa che chiedo è di avere una casa dignitosa, di avere quella manutenzione ordinaria o straordinaria che non esiste avere l'ascensore che non funziona ma prima ancora di parlare del problema della casa, che è un problema che vivono mi chiedono ma il lavoro arriva per i nostri figli, arriva per i nostri nipoti questo è il primo importante problema che dovrà forse il futuro sindaco e qua abbiamo una grossa fortuna, l'esposizione internazionale l'Expo può essere la più grande occasione per rilanciare il sviluppo economico, culturale anche per Milano Hai parlato di istituzione dei bond anche sull'Expo Ci sono dei meccanismi di prestito a tassi positivi ecco che può essere veramente interessante per avere risorse economiche da utilizzare per lanciare l'Expo non solo per i sei mesi dell'esposizione internazionale perché questo sarebbe sbagliato ma per far sì, visto i grandi investimenti che ci saranno per far sì che successivamente rimanga sviluppo per dare lavoro rimanga accoglienza nel senso di grande capacità da parte della città di Milano di far venire a Milano turisti, talenti, grandi società che erano a Milano che avevano le sedie a Milano e che sono andate via Le volevo chiedere però anche un altro suo cavallo di battaglia di cui ha parlato tanto è la commissione antimafia, lei ci tiene molto a istituirla questo è stato un problema in consiglio comunale perché l'opposizione la voleva ma poi Allora io sono non convinto, ho dovuto constatare purtroppo che è stata sottovalutata l'infiltrazione mafiosa ormai già presente anche a Milano città da anni un negozio su cinque paga il pizzo non sono stati messi e posti quegli argini necessari soprattutto in previsione dell'esposizione internazionale dell'Expo che chiaramente porterà possibilità di costruzioni, di impianti, di cantieri quindi maggiori rischi Allora mi sembra che sia un segnale, non solo un messaggio che però anche questo è importante fare e istituire come uno dei primi atti del nuovo consiglio comunale quella commissione antimafia che a suo tempo a Milano aveva lavorato e operato benissimo che è stata proposta dall'opposizione in questi anni e che non è stata voluta deliberatamente dall'attuale sindaco e dal centro-destra dicendo che non c'era un problema di mafia a Milano Sui vigili però lei ha detto che dovrebbero occuparsi anche del traffico soprattutto No, io ho detto soprattutto i vigili di quartiere è fondamentale i vigili di quartiere devono essere presenti sul territorio avere quel rapporto solidale con i cittadini come erano i vecchi Giza milanesi e proprio in questo contatto continuo conoscenza che si accresce giorno dopo giorno quindi fiducia significa che il negoziante che sente un problema un negoziante che vive un'anomalia o subisce una violenza o una pressione lo segnala perché si fida senza rischiare a questo punto sarà un argine non solo contro l'infettazione mafiosa ma lì anche contro la microcriminalità e significa dare sicurezza ai cittadini io sono convinto che la sicurezza sia un diritto che il sindaco deve contribuire a dare a tutti i cittadini Ecco così mi porta sulla, senza volerlo, proprio sulla domanda successiva e così parliamo anche di immigrazione a proposito di sicurezza una delle armi utilizzate dai suoi avversari è quella che con Pesapia la città sarà più insicura si riempirà di moschee, si riempirà di campi rom e di centri sociali Allora sulla moschea, è vero che sorgeranno 100 moschea a Milano? Io nella pagina 27, visto che continuano a dire falsità dico una cosa molto precisa e oltretutto quando dico questa cosa fanno un ulteriore autogol dico che a Milano è necessario un centro multiculturale con i luoghi per poter pregare quindi una moschea, stiamo parlando di una moschea oltretutto in previsione dell'esposizione internazionale arriveranno a Milano 20 milioni di stranieri molti di questi avranno religione o professeranno religione diverse dalla nostra io credo che sia giusto dare a loro anche un luogo dove poter pregare in maniera decinta evitando ad esempio le 7-8 maschee illegali che ci sono da 20 anni e da 20 anni il governo del centro-destra oltretutto l'autogol è questo che questo è previsto nel piano del governo del territorio approvato dal centro-destra il centro-destra approvato dal piano del governo del territorio in cui prevede un centro multiculturale era stato brandirare il primo del centro-destra a dire è necessario ma la Moioli l'ha detto e Salvini si è fatto sfuggire fuori onda quindi il problema è che io parlo apertamente e dico ci sono tante moschea illegali che creano problemi sia a chi deve pregare sia ai cittadini della zona crediamo, creiamo un posto dove si possa liberamente senza dare, creare problemi chiaramente rispettando le regole e del resto a pagamento del comune o loro? no, a pagamento loro come è normale come è giusto ma oltretutto l'esperienza del Palasciarpa in questo periodo che sarà abbattuto che sarà abbattuto è stata un'esperienza positiva gli stessi abitanti di Viale di Enel bisogna trovare un luogo che chiaramente non crea problemi a chi abita in quella zona ma credo che questo sia rispetto come se si ponessero problemi a far sì che in una città in un luogo in una nazione dove la maggioranza non è di religione cattolica si vieta o non si voglia una chiesa purtroppo succedono cose tragiche ma queste e queste in cui dobbiamo combattere perché chi professa una determinata religione è sempre la religione cattolica in certi luoghi è perseguitato ma un'altra cosa noi dobbiamo chiedere il rispetto di ogni religione come del resto prevede la religione e dare a ognuno la possibilità legalmente senza doverlo fare in strada senza dare fastidio ad altri di poterli ma questo di poter pregare ma questo vale per tutte le regioni e voglio ribadirlo vale per tutte le regioni il rispetto delle regole e quando l'attuale sito dice ci vuole una legge nazionale io dico sì c'è stato un rimpallo tra lei e Maroni sì ma è stato un rimpallo ma un rimpallo falso perché non c'è nessun bisogno di una legge nazionale queste sono cose che può decidere il comune le autorizzazioni le concessioni nei luoghi nei terreni dove si pagheranno quello che si dovrà pagare ma parlo di una moschea una moschea e sarà la più grande d'Europa no perché questa è un'altra cosa ma assolutamente perché sarebbe sbagliata la più grande d'Europa oltretutto una moschea ce l'ha Roma ce l'ha Torino in altre città europee ci sono più moschee Milano c'ha un certo numero di persone che professano quella fede religiosa io credo che sia giusto dargli un luogo dove poter pregare ci sono tante chiese ci sia una moschea ok è stato chiarissimo i campi Rom l'altro punto lei nel programma dice bisogna uscire dalla illegalità e preparare anche l'uscita dai campi Rom ecco quindi esattamente l'opposto perché io credo che i campi Roma bisogna innanzitutto quelli grandi bisogna eliminarli il più possibile ma non con gli sgombri come ha fatto la Caritas cioè attraverso il convincimento che è giusto per i bambini di Roma per le famiglie di Roma vivere in una situazione di normalità e allora io dico apertamente le parole sono testuali i campi Roma che noi che noi crediamo negativi devono essere superati dando la possibilità a queste persone di integrarsi alcune il tribuniano ce lo insegna col convincimento alcune sono ritornate nel loro paese d'origine molti sono italiani si sono integrati nelle case quindi l'obiettivo è non avere più campi Roma è chiaro ma l'obiettivo non può essere che quello perché è l'integrazione la coesione sociale significa innanzitutto dare la possibilità ai bambini di andare a scuola alle famiglie di conoscersi e di avere fiducia reciproca e questo crea l'elemento positivo che veramente è importante che ritorni a Milano come c'è sempre stato in passato terzo problema terzo cavallo di battaglia dei suoi avversari sono i centri sociali con Pisa Pia Sindaco si avrebbe la Milano piena di centri sociali o cosa? si avrebbe una Milano piena di luoghi di aggregazione per giovani e per anziani io ho girato le periferie ci sono luoghi bellissimi a Milano ex asili ex teatri chiusi abbandonati che invece devono essere messi a disposizione dei giovani e degli anziani o dei meno giovani di chi ha un progetto culturale o un progetto di lavoro che possono essere un volano per ulteriore sviluppo della cultura e del lavoro a Milano perché lasciare degradare questi luoghi ripeto che sono bellissimi che non danno un lira al comune di Milano che si impoveriscono diamole a chi ha voglia di far sì che un progetto diventi realtà chiaramente un progetto che deve essere verificato da una commissione autorevole e imparziale e che possa portare veramente qualche cosa dal punto di vista sociale culturale e anche di sviluppo lavorativo a Milano perché questo è importante quindi le occupazioni abusive il rispetto delle regole è il presupposto il problema è poi avere il dialogo per far sì che laddove ad esempio si crea un problema il primo obiettivo non è quello di chiudere il primo obiettivo è quello di trovare una soluzione i giovani sono arrabbiatissimi perché sono venute 20.000 giovani a un concerto con cui abbiamo parlato anche il politico 18-20 anni che forse non andavano neanche a votare credo che questa volta siano andati a votare e ritorneranno perché non è possibile che quando ad esempio c'è un circolo di giovani dove vanno venerdì sabato sera a ballare piuttosto che a fare musica senza dover andare in luoghi dove si spaccia cocaina e si paga 200 euro per entrare e invece in questo si paga 5 euro allora se c'è qualcosa che non va tipo un problema di sicurezza il comune deve intervenire subito ma non deve chiudere il locale deve aiutare e risolvere insieme ai gestori chiaramente il pagamento dei gestori questo problema è proprio una mentalità diversa i luoghi di aggregazione aiutano il contrasto alla disaffezione della città il contrasto alla criminalità il contrasto anche all'uso e all'abuso di sostanze stupefacenti anche da questo punto di vista hanno detto un sacco di falsità si vado a leggere c'era un quarto il fatto che parlano della stanza del buco droga libera per tutti con Pisa Pia Sindaco c'è proprio un punto del programma che dice forte sarà il contrasto alle droghe e all'uso delle droghe soprattutto è un soprattutto alla cocaina che purtroppo lo dimostrano le acque sporche dei canali milanesi è la sostanza che a Milano è utilizzata più che in purtroppo certo purtroppo quindi è un contratto fermo deciso importante che non si risolve spostando il problema o criminalizzando chi usa ma dicendo io ti do delle alternative possibili che non sono quelle della droga ma sono quelle di luoghi dove puoi trovare tante persone e fare comunità insieme l'ultima cosa partiamo da dove cioè chi veniamo da dove siamo partiti ovvero la notizia di ieri di ieri sera di Letizia Moratti che toglie le ecopass si un po' in contrasto con quello che ha detto un mese fa vantandosi invece di questo strumento che peraltro non ha ottenuto successo contrastando con il suo assessore Croci prima licenziato poi ripreso in vista poi per ancora licenziato ma soprattutto in contrasto con quello che aveva detto fino adesso e cioè ci sono cinque referendum che saranno sottoposti al voto dei milanesi il 12 giugno che trattano proprio di questi temi mi sembra doveroso che uno aspetti l'esito del referendum e l'esito del referendum va in direzione diversa da quella che le propone perché è giusto superare le ecopass ma bisogna trovare una soluzione complessiva alternativa ci sono i cinque referendum e soprattutto ci sono le proposte della commissione di saggi da lei istituita che dice cose completamente diverse quindi non si risolve con abolendo le ecopass che pure non ha dato i risultati ma con un complesso di provvedimenti che possono dare aria pulita a Milano e soprattutto un traffico sostenibile e poi c'è una cosa che sento di dire con forza in questi anni ha governato il centro-destra questi problemi non li hanno risolti che adesso pensano con la bacchetta magica e con parole che non rimarranno parole non possono pensare di contrastare quello che è un progetto complessivo di cambiamento della città la responsabilità di questa Milano che oggi dobbiamo vivere e in cui dobbiamo sopravvivere è loro perché non hanno fatto nulla di quello che doveva essere fatto a livello di ambiente a livello di traffico dal punto di vista dello sviluppo lavorativo e dal punto di vista dello sviluppo culturale c'è un'alternativa credibile c'è un candidato scelto dal basso che credo l'hanno dimostrato già gli elettori al primo turno è credibile chiedo a tutti veramente di avere fiducia nella possibilità che Milano possa cambiare e soprattutto migliorare oggi 20 maggio è il suo compleanno a parte gli auguri che compleanno sarà? oggi sarà un compleanno che non sarà festeggiato perché sono ancora in campagna elettorale lo festeggerò in giro per i quartieri e per le periferie perché oltretutto non so come mai questa voce è circolata e su Facebook ci sono già centinaia e centinaia di persone che infine fanno gli auguri quindi credo che girando per la città ne riceverò molti grazie 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 Giuliano Pisapia